E' in distribuzione il numero di dicembre di Neuromed News, trimestrale di informazione medico-scientifica edito dall'IRX Neuromed di Pozzilli. La rivista si apre con un'intervista a Fulvio Aloy, responsabile dell'unità complessa di terapia intensiva Neuromed. Segue la presentazione di altre due recenti acquisizioni di alto valore tecnologico, la nuova risonanza magnetica 7 Tesla, destinata esclusivamente alla ricerca scientifica su modelli animali, è un'attac di ultima generazione che permette esami di altissima precisione, riducendo il disagio dei pazienti. Seguono altre interviste, tra cui quella ad Anna Elisa Castellano, responsabile dell'unità valutativa Alzheimer del Neuromed, e quella a Tommaso Langiano, nuovo amministratore delegato della casa di cura Malzoni, Villa dei Platani di Avellino, appartenente allo stesso gruppo, un'autorità nel settore. Al numero di dicembre è affidato anche un resoconto del successo riscosso dall'edizione 2016 della Notte dei Ricercatori, che in un video messaggio del Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, è stata definita una meravigliosa rivoluzione.